Gli imprenditori oggettivamente negli anni della pandemia hanno messo mani al portafoglio, cioè a ciò che avevano per resistere la crisi. La paura di essere vittima di usura arriva anche a Nord-Est. L'ha provata in questi due anni di pandemia un imprenditore su quattro del settore del terziario. Sono i dati raccolti dal primo osservatorio realizzato da ConfCommercio e Banca Prealpi e San Biagio post-pandemia. Una ricerca che ha scelto a campione 500 imprese nella marca, cercando di analizzare lo stato di salute di un settore che da solo produce il 61% del PIL italiano. L'impresa del commercio al dettaglio non alimentare, pubblici esercizi, non hanno fatto venire meno la propria capacità di fare impresa e di essere imprenditori veri. Tante che anche nei momenti più duri della crisi, a Treviso, non abbiamo avuto veri momenti di crisi occupazionale. Una crisi che ha colpito soprattutto i settori del commercio al dettaglio, del turismo, dei pubblici esercizi. Emerge che almeno il 40% delle imprese ha chiesto aiuto alle banche. Siamo usciti bene, lo dicono i dati, il sistema bancario in generale ne è uscito bene. L'80% di chi ha richiesto un credito l'ha ottenuto, sul 40% delle aziende che lo ha chiesto. Contro ogni previsione invece più dell'80% del campione ha applaudito all'introduzione del Green Pass senza vederlo come un freno per il proprio business, mentre il saldo tra imprese nuove nate e cessate resta comunque positivo. Ed è proprio la marca a fare la differenza con dati che su ogni indicatore superano la media nazionale. Serve ripartire dalla formazione e dall'occupazione di donne e giovani, dice Dania Sartorato, Nea Euletta, presidente, a preoccupare il settore resta al costo altissimo delle materie prime e dell'energia. Servono degli interventi della politica, la politica deve fare, la politica in questo momento, perché la ripresa non può cozzare con questo problema di aumento di costi, è assolutamente inconcepibile. Non possiamo permetterci di dissipare così le poche risorse che ormai sono rimaste, perché ricordiamo gli imprenditori sono ricorsi quasi esclusivamente all'autofinanziamento in questi due anni di pandemia.